un italiano su due non si fida delle associazioni non profit e sceglie di non donare per questo oggi serve una garanzia da più di dieci anni l'istituto italiano della donazione garantisce attraverso i suoi controlli l'uso corretto dei fondi raccolti una associazione che aderisce all'istituto italiano della donazione è sicura e affidabile scegli di donare ea chi su iodonosicuro.it istituto italiano della donazione dona senza sorprese benvenuti io sono ornella ponzoni ed è un piacere essere qui oggi per parlarvi dell'istituto italiano della donazione un'associazione che da oltre dieci anni si occupa di dono e donazione in tutta italia oggi è un piacere ancora più grande essere qui perché è qui con me bruno cavallo presidente dell'associazione maria madre della provvidenza benvenuto grazie l'abbiamo sentito anche dal contributo che appena andato in onda un italiano si due non si fida e non dona io sono sicura che sarà capitato almeno una volta nella vita anche a voi di voler donare per una causa che vi stava a cuore ma di esservi trattenuti da questo gesto di generosità dal dubbio ma i miei soldi andranno davvero a buon fine l'associazione si occupa davvero di quello che mi ha promesso di quello che mi ha detto ecco l'istituto nasce per questo motivo per dare una garanzia al donatore noi svolgiamo dei controlli annuali che sono molto rigorosi si rifanno a standard riconosciuti a livello internazionale e vanno ben oltre quelli che sono gli obblighi di legge tutte le associazioni che passano i nostri controlli vengono inseriti nel database io dono sicuro che è disponibile per tutti sul nostro sito www punto io dono sicuro punto it all'interno del database è possibile filtrare per territorio per ambito di intervento e anche è possibile capire sapere come donare a queste associazioni verificate e anche magari come diventare volontari presso questa realtà a cui è bene e sono meritevoli della vostra fiducia inoltre a partire dal 2015 abbiamo realizzato un grande progetto nazionale che si chiama giorno del dono questo significa che dal 2015 c'è una legge in italia che sancisce che il 4 ottobre di ogni anno è il giorno del dono in cui si festeggia il dono in tutte le sue forme il mio invito è già da oggi di iscrivere soprattutto le vostre scuole di ogni ordine grado e partecipare a un contest dedicato proprio alle scuole in occasione del giorno del dono come dicevo è un piacere essere qui con bruno e ho il piacere di chiedegli di cosa si occupa la vostra associazione e perché avete scelto di essere verificati dall'istituto grazie la nostra associazione maria madre della provvidenza odv ha già 27 anni di storia e noi siamo nel settore socio assistenziale e siamo soci dell'istituto italiano della donazione dal 2008 abbiamo deciso di diventare soci perché è un valore aggiunto che noi diamo alla nostra associazione molta gente come diceva ornella non dona perché non sa dove vanno a finire i fondi e c'è molta diffidenza io ritengo che essere soci dell'istituto italiano della donazione sia veramente una cosa in più e questo va a garanzia di tutti i nostri donatori maria madre della provvidenza attualmente ha sette sedi operative siamo oltre 300 volontari che lavoriamo abbiamo un bel gruppo giovani che ogni estate organizza dei campi per parlare già di volontariato ai ragazzi nell'età tra i 9 e i 14 anni qui a torino gestiamo una mensa serale per persone senza fissa dimora e ogni anno distribuiamo circa 25 mila pasti oltre a questo diamo un aiuto alle famiglie in gravi difficoltà economiche mediante pacchi alimentari e contributi in denaro per il pagamento di bollette di affitti e di riscaldamento grazie mille bruno la vostra associazione ci conosce da tanti anni ed è un piacere quindi avervi qui oggi e poter parlare della vostra attività l'associazione maria madre della provvidenza è un'associazione a cui poter donare in piena fiducia l'appuntamento che mi sento di dare a tutti è proprio sul nostro sito www.iodonosicuro.it dove potete trovare tutte le realtà verificate dall'istituto grazie e arrivederci www.iodonosicuro.it